Questi sono momenti pesanti, gravi per tutti, problematici. Ti dico di stare a casa e stiamo a casa, noi che abbiamo una casa, noi che abbiamo quattro mura in affitto, in proprietà da abitare. C'è gente che non ha un tetto, che non ha da mangiare, che non ha da bere, che non ha da coprirsi. Tutte queste persone, i senza tetto, che girano, che vivono per le strade di Milano e dell'Italia, sono aiutate dalla struttura dei City Angels di Mario Furlan. Bene, io vi chiedo di aiutare questo gruppo di volontari così meritevoli, donando cose, donando euro, se ne avete la disponibilità, e magari di ricordarvi di devolvere ai City Angels di Mario Furlan il vostro 5x1000.